Il piatti, il piatti, il piatti, il connesso e piatti, con la mare lui, lui! Eh, lo sapevo! Ecco qua Nelsen Piatty! Che prodotto! È concentrato solubile, si scioglie tutto subito e non si spreca! Nelsen Piatty è conveniente nelle confezioni da 1, 2, 5 chili dichiarati, puliti! E se hai problemi di spazio, Nelsen Piatty condensato, il chilo più comodo, piccolissimo, Vale un chilo del tipo normale Nelsen Piatty mi piace!